Ciao amici, Massimiliano HP John Blod da Tecnoscignati, oggi siamo in una cornice un po' particolare perché ci troviamo al negozio Unieuro di Torino di Via Canelli, dove siamo stati invitati grazie alla gentilezza di Rita, Rita Duranti, per una seconda presa di contatto dopo quella che avevamo a Barcellona con il bulgaro del Microsoft Lumia 640XL, un telefono, un phablet praticamente, molto molto interessante che per il prezzo a cui è proposto, siamo abbondantemente online sotto i 200 Euro e qui intorno ai 200, caratteristiche molto interessanti, a partire dal display da 5,7 pollici, ve lo ricordate l'avevamo già visto in Barcellona, HD 1280x720 e connessione LTE. Questo è un phablet di Microsoft, fa della parte fotografica la sua caratteristica principale, ci troviamo con una fotocamera posteriore da 13 megapixel e se riesco a farvela vedere messa a fuoco dalla fotocamera vedete con lenti Zeiss, caratteristica dei Lumia alto di gamma e prima di loro dei Nokia, con un flash LED e già che ci siamo vediamo il retro in policarbonato e l'altoparlante posto sul posteriore. Ci troviamo di fronte a un telefono abbastanza importante, si parla di 171 grammi che non sono proprio pochi, ma per il bilanciamento del dispositivo direi che non è molto fastidioso manovrarlo. 157,9 mm, 81,5 per soli 9 mm di spessore, tra l'altro vi faccio vedere da questa parte l'unico lato, vi chiedo scusa per le luci ma come avete sentito non sono a casa, sul lato destro del telefono il bilanciare del volume e il tasto accensione, blocco e spegnimento. Ovviamente questo dispositivo ha ancora su, ve lo faccio vedere, il Windows Phone 8.1 nella versione denim e però sappiamo tutti, eccolo qua, vedete? Sappiamo tutti che è uno dei telefoni elegibili per essere aggiornato immediatamente a Windows Mobile 10. Connettività LTE, fotocamera anteriore da 5 megapixel, quindi anche questo votato alla parte selfie, la fotocamera posteriore da 13 megapixel registra video in Full HD, oltre a scattare foto alla risoluzione massima di 4128 x 3096 pixel, quindi comunque la parte camera phone direi decisamente interessante. Esiste anche nella versione dual sim, oltre che single sim, è motorizzato da un Snapdragon 400, una 7, un quad core da 1,2 GHz. La GPU è un Adreno 305, 8 GB di memoria espandibile con microSD fino a 128 GB e 1 GB di RAM. Ma sappiamo tutti che, come per iPhone, quando si parla di Microsoft, l'ottimizzazione del sistema fa sì che la RAM non sia necessaria in numeri potenti e alti come quelli di Android. Devo dire un display, io adesso l'ho messo una luminosità massima, molto bello come tutti i display in Nokia e anche la costruzione, pur essendo di plastica è decisamente di buona qualità, non scricchiola, lo vediamo, molto molto il pulito design, sulla parte superiore soltanto il jack da 3,5 per le cuffie e sulla parte inferiore la presa micro USB per la carica e il collegamento al computer. Abbiamo una caratteristica particolare, voglio farvela vedere se riesco, perché qui sul display, tra il display e la scocca, c'è uno scalino, un po' come succede sull'HTC One M9, che ne facilita decisamente la presa. Cosa dobbiamo dire di questo dispositivo? Che ancora non sappiamo, è ovvio che tutte le sue potenzialità le esprimerà quando sarà aggiornato Windows One Mile 10, ma comunque in ogni caso per una cifra inferiore ai 200 Euro si entra in possesso di un phablet molto interessante con le caratteristiche specifiche di Windows, sistema operativo Windows che conosciamo sono fatte per un'utenza che non necessita di modding, che non necessita di smanettare tanto sul telefono e che in ogni caso ha bisogno di un telefono pronto e via al servizio. Ovviamente Cortana e vedremo poi con gli aggiornamenti come funzionerà. Detto questo io vi invito come sempre a andarvi a rivedere, la linkerò nell'articolo, la prova e il brevenzone che facciamo a Barcellona con Andrea Albungaro, di mettere un mi piace su questo video e di iscrivervi alla nostra pagina YouTube per rimanere sempre aggiornati. Con questo ringrazio Gigi, ringrazio Laura, ringrazio Rita che ha permesso che io venissi qui oggi in negozioni Euro per prendere in contatto per la seconda volta con questo Lumia 640 XL e vi do appuntamento agli prossimi giorni quando, nel pomeriggio di oggi lo sapete, saremo a Milano per la presentazione del G4, avremo modo di vedere come funziona questo famoso dispositivo che incontreremo oggi a Milano. Per adesso Massimiliano vi saluta e vi do appuntamento alla prossima occasione. Ciao ciao!